10 impianti autodemolitori della provincia di Frosinone sottoposti a sequestro al termine dell'operazione Demolition condotta dal nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone con il supporto dei tecnici Arpalazio. 13 in tutto gli impianti di trattamento di veicoli fuori uso della provincia di Frosinone che sono stati controllati, 6 sono risultati completamente privi di autorizzazione, uno dei quali già oggetto di ordinanza di bonifica mai eseguita. Un solo impianto è risultato regolare e conforme alle norme di settore, mentre tutti gli altri, anche se autorizzati, sono risultati irregolari con violazioni delle norme in tema di trattamento e bonifica dei veicoli fuori uso. In particolare i controlli hanno accertato veicoli in evidente stato di abbandono su terreni privi di idonee coperture, mancata bonifica dei veicoli fuori uso con asportazione di pezzi non trattati, sversamenti di oli su piazzali e terreni, parti di motori abbandonati su terreni. Frequenti infine sono stati rinvenimenti di veicoli che sebbene abbandonati risultavano ancora con targa. Sono in corso dunque accertamenti per risalire ai legittimi proprietari. Dieci impianti di trattamento veicoli fuori uso sono quindi stati sottoposti a sequestro, denunciati alle procure presso i tribunali di Frosinone e Cassino, 15 soggetti a vario titolo per i reati di smaltimento e gestione illecita di rifiuti pericolosi, abbandono incontrollato di rifiuti, violazioni di prescrizioni autorizzative e omessa bonifica.